Non servono parole per raccontare un'emozione. Non so se ci fai caso, ma quando riesci ad assaporare la felicità, stai sicuramente sorridendo. Ed il sorriso arriva per un gesto sincero, da un bel ricordo o mentre stai costruendo un importante momento di vita. Sorridi quando vorresti che quella giornata non finisse mai. E' proprio il tuo sorriso che parla, un riflesso spontaneo e involontario del tuo essere felice. Liberare il tuo sorriso è davvero il più bel regalo che puoi farti e che noi possiamo fare a te.